mentale ma è una cosa che voi non prendete in considerazione quando per fare le protesi i simulatori non è una cosa ovvia non tutte le cliniche utilizzano gli articolatori a parametri individuali o semi individui usano gli occlusori sono è una forchetta un apparecchietto ci ho fatto un video i giorni scorsi con la taratura dell'articolatore è fatta con le misure che fanno l'impronta ma prendono poi anche l'arco facciale che si attacca sul viso che ti fa avere un'idea di quelle che sono le dimensioni proprio della bocca da ricostruire quando noi arriviamo a un lavoro definitivo come questo questo era lo stadio iniziale ok è tipo lo stadio suo che era uno stadio simile mancano altri denti però vedete che siamo allo stesso livello mancano quasi tutti i denti dobbiamo non solamente rimettere gli impianti andare a fabbricare questi sopravvisori spegniamo lì la luce questa questa è la parrucca abbiamo fatto prima di mettere i definitivi prima una parrucca facciamo un test vedete che questo è un sono dei denti stampati qua si vedono i segni della stampa strato dopo strato ma andiamo soprattutto a simulare quelli che sono i movimenti prima di andare coi definitivi poi si parte con la produzione della linea definitiva e la linea definitiva questa è la linea superior concettualmente ce l'avete lì sul tavolo quel modellino la lo potete passare questo quale la linea superior questo è il concept prima uno dei primi primi concept che abbiamo fatto quando stavo studiando proprio come fare la linea superior con gli odonto tecnici e c'è all'interno la barra di rinforzo la struttura in pecton esterna e poi la zirconia sopra queste sono invece corone in resina perché sono i test per vedere come va in bocca poi se quelle vanno bene le fresiamo in zirconio per questi qua sono i denti però i denti devono lavorare in dinamica non sono per la bocca non è ferma si muove la bocca se si muove significa che i denti urtano tra di loro ogni giorno 3000 volte al giorno urtano e se io non vado a studiare quello che deve essere il percorso che l'aereo deve fare a seconda delle montagne che c'ho non so se i denti magari reggeranno oppure no e quelli sono problemi dovuti all'articolazione l'articolazione della dentatura che viene in laboratorio simulata con gli articolatori ok entrabate laboratorio u articolatore a parametri individuali da da aduce ora ce lo porta e ve lo faccio vedere un articolazione questi sono parametri tecnici ok 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 ok